Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa, siete su FanoTV, canale 17 del Digitale Terrestre, tra pochi istanti vedremo i giornali, oggi sono pieni di notizie, come sempre, come tutte le mattine, ma questa mattina sono pieni di notizie che riguardano il terremoto in regione con le 77-78 persone indagate sulla questione dell'aeroporto a Erdorica. Andiamo prima di vedere le pagine dei giornali a guardare il santo e poi le previsioni del tempo, cominciando dal santo di oggi, oggi la Chiesa Cattolica ricorda Santa Emerenziana Vergine, mentre il sole sorgerà alle 7.33 e tramonterà alle 17.06. Per quanto riguarda il tempo, la protezione civile delle Marche oggi prevede cielo sereno poco nuvoloso, ad eccezione della prima parte della mattinata in cui sulla fascia costiera centro-settentrionale, Ancona-Pesaro, saranno presenti nebbie foschie in dissolvimento nel corso della mattinata. Per venerdì domani cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti nelle zone montane e nelle prime ore della giornata foschie e banchi di nebbia in dissolvimento nel corso della giornata. Generale aumento della copertura nuvolosa dal tardo pomeriggio di domani. Attenzione alle foschie e banchi di nebbia, come abbiamo detto, lungo la costa. Poi sabato il tempo peggiora, torna la pioggia, con precipitazioni deboli diffuse nelle zone interne, sparse altrove nelle zone basso-colinari e sulla costa settentrionale, mentre saranno precipitazioni locali dalle altre parti. Per quanto riguarda il fine settimana, avremo un ritorno di condizioni stabili, del tempo, soprattutto una giornata di domenica, poi successivamente un generale rasserenamento. Quindi diciamo così, sabato e domenica il tempo sarà un po' perturbato, poi dopo tornerà il bel tempo. Andiamo a vedere i giornali, cominciamo con l'edizione di Pesaro del Corriere Adriatico. Santa Veneranda e Celletta, i comitati non si arrendono, pressing sul comune, doppia protesta tra presidi in strada e raccolte di firme. Il dopo Di Maio, le dimissioni nelle Marche, tra puri e critici, un nuovo Big Bang nell'universo del Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio si è dimesso ieri, pochi giorni dal voto in Emilia Romagna e Calabria, ecco come cambia la geografia grillina nelle Marche, tra duri e puri, i fedelissimi di Di Maio e dall'altra parte i critici. Cataldi, Rossini con l'isolato Giulio Dori in abilico. Ma la copertina, la fotonotizia se la giudica questa mattina, il lancio improvvisato, non è anche tanto, programmato nella sala della Concordia del Comune di Fano, dove ci sono tutti i protagonisti dell'organizzazione del Carnevale di Fano che simulano quello che è il getto del Carnevale, il getto di dolciumi alla folla, che in questo caso è soltanto composta da giornalisti. Avanti con i cari al getto, ha annunciato il programma del Carnevale di Fano, sfilata nelle tre domeniche 9, 16 e 23 febbraio, è l'anno di Greta Thunberg, tra gli ospiti La Cica, Scuba Show, Antonio Mazzancella e Povia. C'è anche la politica con la notizia che una donna, ovvero la Scaramucci, scala i vertici del PD di Pesaro e Urbino, prende il posto di Gostoli, dunque è la nuova segretaria del Partito Democratico di Pesaro. Poi lo Sport, il Fano che sfiora l'impresa contro la Samba 1-1, il pareggio arriva soltanto alla fine, Baldini aveva portato in vantaggio di Grenata, una giornataccia invece per la Vispesaro sconfitta 2-0 a Bolzano. Vediamo invece adesso la pagina del resto del Carlino, questa è la fotonotizia, fratelli Coltelli, omicidio Grilli, via il processo, sarà scontro fra gli imputati. Mentre a Erdorica, regione sotto inchiesta, peculato, la procura indaga 78 amministratori e manager, quattro giunte nel Mirino, c'è anche Ceriscioli. E poi Scaramucci guida il PD provinciale, lei dice saremo vicini alla gente. La Vispes torna a mani vuote, Fano invece un punto è poco. L'incubo di una donna picchiata e violentata, siamo sulla cronaca di Macerata, l'ex finanzato, un 42enne che è stato rinviato a giudizio a Civitanova, adesso è finito nei guai. Centropagini invece Risico Scuole, 30 anni in condominio, adesso i genitori protestano e vogliono per l'Ipsia, un istituto, un plesso vero e proprio. Addio al cane Lulù, ha aspettato Dino, sepolto a Rigopiano, è la storia che arriva da Osimo, ma la strage continua sulle strade ad Ancona, tra volte ucciso in piazzale Europa un'ottantenne, la quarta vittima dall'inizio dell'anno. Aeroporto, 78 indagati, nel Mirino le ultime quattro giunte, imprenditori e i CDA di Aerdorica, la Procura vuole vederci chiaro sull'utilizzo delle risorse pubbliche per il sanzio, una bufera giudiziaria a pochi mesi dalle elezioni marchigiane. L'ipotesi è quella di peculato, nel fascicolo del PM sono dunque finiti degli ultimi 20 anni di governo regionale, il buco sarebbe da 44 milioni di euro. a portare la Procura a chiedere una proroga delle indagini è stata la necessità di ulteriori approfondimenti investigativi ritenuti allo Stato indispensabile al fine di delineare e comprendere adeguatamente la vicenda. Così ha motivato il prolungamento il PM. Ecco tutti i coinvolti, invece l'altra pagina con l'elenco delle 78 persone indagate, Vito D'Ambrosio, Spac, Ceriscioli, tre presidenti, ma anche dirigenti e funzionari dell'ENAC. Si tratta di persone che a vario titolo hanno gravitato attorno ai settori delle infrastrutture del turismo legate naturalmente allo scalo Raffaello Sanzio. Che cosa hanno detto alcuni di questi indagati? È un atto dovuto, ha detto l'assessore regionale al bilancio Fabrizio Cesetti. Ritengo che l'inchiesta della Procura della Repubblica di Ancona sia appunto un atto dovuto e doveroso, pur non avendo separato il tempo in cui le azioni si sono dispiegate e i fatti si sono accaduti. Così ha detto appunto l'assessore Fabrizio Cesetti. Ma anche Gianluca Carabs, oggi amministratore di Svim, ex assessore regionale dal 2005 al 2010, dice primo non ne so niente, secondo con l'aeroporto di cui parla non ho avuto alcun tipo di rapporto, terzo attendo lumi e dormo tranquillo. Ma a pochi mesi, a poche settimane dal voto regionale, certamente questa è una bomba politica. Ma Ceriscioli, l'attuale governatore uscente, dice non mollo. Inchiesta giudiziaria che dunque entra nel cuore della campagna elettorale. Il governatore dice non ritiro la mia candidatura, l'aeroporto l'abbiamo salvato. E non credo nemmeno che i nostri competitor, dice lui, abbiano bisogno di questo per avere spinta, riferendosi chiaramente al centrodestra. Dice la vicenda non mi fa piacere, non è nemmeno qualcosa che però mi innervosisce particolarmente. Basti pensare che tra gli indagati c'è anche Vito D'Ambrosio, a lungo magistrato di professione, e credo sia al di sopra di ogni sospetto. E proprio a Vito D'Ambrosio è dedicata l'altra pagina di questo terremoto in regione. Lui dice peculato, vietavo persino l'auto blu a mia moglie. D'Ambrosio non nasconde lo stupore che per la vicenda, che lo vede coinvolto. Non ho ricevuto, dice lui, alcuna comunicazione ufficiale. In merito, ma da quanto sto avendo modo di apprendere, mi sembra un po' il classico caso della pesca a nastro. Vedremo comunque quello che succederà. Comunque nel mio caso mi sento più che tranquillo. E da dove nasce questa sicurezza? La sicurezza di non avere nulla da temere. Lui dice, risponde D'Ambrosio, di sicuro non ho mai utilizzato i soldi pubblici a beneficio di me stesso e di persone a me vicine. Poi ricorda un fatto personale. Ho impedito perfino a mia moglie di salire sull'auto della regione, anche in mia presenza. Ricordo che una mattina all'uscita dell'ospedale Salesi ad Ancona, dove era ricoverata nostra figlia, mia moglie mi chiese se poteva accompagnarla con l'auto della regione, in quanto la sua destinazione era di strada. Io le dissi che non era il caso e le feci prendere un taxi. Lei ci rimase anche un po' male, ma io sono fatto così e su certi principi non transigo. Il peculato proprio non mi appartiene, dice D'Ambrosio. L'aeroporto in sostanza era un buco nero, 78, queste le persone indagate. Questa max inchiesta della Procura, dove nel Mirino sono finite le ultime 4 giugno, come abbiamo detto, indagati per peculato anche Ceriscioli e gli assessori. Troppi fondi elargiti in passato e mancato controllo per debiti arrivati a 44 milioni di euro, mentre la nuova proprietà dell'aeroporto è stranea all'inchiesta che di fatto questa proprietà ha privatizzato lo scalo. Il magistrato starebbe approfondendo il tipo di utilizzo di queste risorse pubbliche erogate al gestore e l'eventuale mancato controllo pubblico. Chiusa la pagina dell'aeroporto, apriamo adesso quella con la seconda notizia certamente più importante, perlomeno per noi che siamo qui in provincia di Pesaro. I giornali si occupano questa mattina dell'omicidio Grilli. Sesto Grilli, un uomo di 74 anni, era un uomo di 74 anni, di San Lorenzo in campo, trovato morto in casa, legato il 17 marzo dell'anno scorso. Ora, dopo tutta una serie di indagini, sono finite in carcere quattro persone che adesso rischiano l'ergastolo. Nino De Luca, 28 anni, residente a Pesaro, il fratello Franco De Luca, 40 anni, rientrato da poco in Italia dalla Germania, Dante Lanza, 34 anni, e Massimiliano Cagliazza, 28, entrambi residenti a San Pietro in Casale e originali di Cetraro, in provincia di Cosenza. Nella fotografia il Corriere pubblica invece la foto del fratello di Sesto Grilli, che ieri era in tribunale a Pesaro. In aula c'era appunto il fratello Giuseppe, la famiglia non ha voluto costituirsi parte civile, scrive il giornale. L'importante è che gli assassini, dice il fratello, paghino per quello che hanno fatto. Se penso alla morte che gli hanno fatto fare, mi è stato detto che lo hanno persino colpito con un ferro quel giorno, non ci potevo credere. Volevano i soldi, si conoscevano con De Luca, forse li ho visti anche io in passato, cercherò di seguire il processo perché voglio giustizia per mio fratello. Il resto del Carlino titola imputati alla sbarra, prima udienza ieri del processo, i quattro giovani di origine calabrese rispondono di omicidio volontario. La svolta nelle indagini, grazie ai tabulati telefonici, ai tabulati del telefono fisso di Sesto Grilli, mentre nessun contatto tra gli arrestati, che sono arrivati in momenti diversi ieri in tribunale. Ma il Carlino ci informa di indagini anche sul padre e lo zio degli arrestati. Il padre e uno zio avrebbero cercato di invitare Nino a non accusare il fratello Franco di 40 anni. La procura ha infatti chiuso le indagini su Giuseppe Antonio De Luca, rispettivamente padre e zio dei due fratellastri, imputati Franco e Nino. I due senior non avrebbero credito che Nino avesse deciso di parlare e quindi in qualche modo di collaborare con la giustizia. Questa invece è la pagina di Fano del Carlino. Carnevale, ieri è stato presentato il Carnevale, come abbiamo visto dalla foto sul Carlino, sul Corriere. Il programma ufficiale è stato annunciato. La parola d'ordine di questo Carnevale 2020 sarà Riciclo. Protagonisti gli artisti di Mutonia che rigenerano ferri vecchi in sculture e saranno in mostra il 9 di febbraio. Intanto per quanto riguarda i biglietti, sapete il Carnevale di Fano ormai dall'anno scorso per entrare si pagherà un biglietto. Ci sono quelli online, anche per evitare le code. Costeranno 9 euro, mentre per chi vorrà comprarle direttamente allo sportello dovrà sborsarne 12, quindi qualcosa di più. Torna anche la Lotteria della Fortuna con l'incasso devoluto alla mensa dei poveri di San Paterniano. Anche il Corriere apre con la pagina di Fano con il Carnevale dedicato all'ambiente. L'impronta di Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese ispira il tema generale e un carro di seconda categoria. Le sfilate saranno domeniche 9, 16 e 23 febbraio. Le allegorie rinnovate, quindi ci saranno anche carri nuovi. Chiuderà Parasole. Poi ancora, sui quotidiani, la notizia di uno spot che il nostro Lorenzo Marcantonini, che lo vedete qui in questa fotografia, ha realizzato per le Paralimpiadi. Gira uno spot, Marcantonini, per fare sport. Ha collaborato con lo Juventino Bernardeschi e con la Bonansea. Eccoli qua, tutti e tre insieme. L'altra pagina del Corriere, dalla Val Metauro. Le Sardine ora arrivano a Fano. Diciamo no a odio e sovranisti. Dicono loro che danno appuntamento sabato alle 17.30. Il raduno sarà in Piazza Ammiani. Il movimento è, come dire, pacifista e ambientalista. Minori abbandonati. A Fano ce ne sono 20. Altri tre hanno le loro mamme. Il Comune ha previsto di spendere per il 2020 almeno 650.000 euro per garantire vitto e alloggio. Mentre oggi c'è un incontro, la diocesi tendono una mano all'Islam, serie di appuntamenti da oggi per religiosi e fedeli per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Quando il coraggio sfida la sorte, Ivan Cottini va ad abbracciare Lisa. Lisa è una ragazza di 18 anni, reduce da una serie di interventi ai piedi, grande fan del guerriero che è andata da lei poi a trovarlo. Urbino, vi diciamo noi che, noi negozianti, cosa serve alla città? Conf Commercio e Conf Turismo hanno fatto un sondaggio tra gli aderenti. Le priorità sono di più marketing, cioè spendere meglio, vendere meglio il nome di Urbino, locali aperti la sera e servono anche eventi notturni. Sempre da Urbino, ma questa volta dal Corriere Adriatico, pieni poteri a sgarbi per la muta. Ci sono anche i colpi di fortuna, dice il direttore interim di Palazzo Ducale. Non era sbagliato a tentare uno scambio con il Louvre. Energia e ambiente, 12 sindaci da Pergola nel laboratorio dei mutamenti, riunione con la D della Svim per elaborare progetti e strategie comuni. Specializzazioni in lingue e lingue straniere, a Vallefoglia, identikit dei lavoratori più ricercati. I dati sono di Oasispa, nel territorio c'è anche richiesta di manodopera semplice, nel legno e nella meccanica. Santa Veneranda, l'irriducibile, scendiamo anche in strada, diventa un caso la protesta dei residenti di Santa Veneranda a Pesaro. In assemblea dopo i tre sit-in annunciano il quarto, sarà organizzato il primo fine settimana di febbraio. Il Comune dicono deve venire a patti con noi, insomma non mollano. Celletta, mozione sulla variante, il Comune faccia dietro front, siamo sempre a Pesaro, presentata in Consiglio dei Cinque Stelle, nel fine settimana altra raccolta di firme. E l'impennata delle polveri sottili, che riguarda anche la città capoluogo, smog, subito le domeniche ecologiche, legambiente scrive al sindaco, Ricci, amministratore provincia, sui nove punti ritenuti strategici. Controordine nel commercio, più aperture che cessazioni. I dati del Comune di Pesaro evidenziano il leggero traino del polo del food e anche dei negozi al dettaglio. Dunque aprono negozi dove si può andare a comprare del cibo, a mangiare. Il commercio dunque pare tenere, almeno come numero di attività, il saldo tra cessazioni e aperture. Non solo negozi, ma anche locali. Un leggero segno più che conforta appunto come tendenza. Poi ancora dalla pagina 5 del Corriere, Ricci, la Regione, faccia in fretta e altra fusione dentro l'Unione. In Consiglio Comunale un sì trasversale sull'annessione di Montecicardo dopo il referendum che appunto ha visto il sì prevalere. Ma i mal di pancia non mancano. San Benedetto, pubblicato il bando, due mesi per presentare le offerte. L'assessore Biancani dice che la vendita non è un punto di arrivo, ma una base di partenza. Dicevamo anche del cambio al vertice del PD provinciale che sceglie una donna, Monica Scarabucci, che è un'insegnante di Fermignano. Il mio impegno in piena comunità, continuità, scusate, Monica, eletta segretaria all'unanimità, voglio lavorare per l'unità del partito. Il comitato di Gostoli dice grazie per la splendida opportunità che mi avete dato. Scef invece è condannato per maltrattamenti alla ragazza. Siamo sulla pagina sempre di Pesaro, di taglio basso, il resoconto di un processo che si sta portando avanti al Palazzo di Giustizia di Pesaro, dove ieri appunto si è svolta questo processo. Aveva sfondato la vetrata della porta della casa di lei. Ora è all'estero. La pena è sospesa. Siamo invece adesso sulla pagina delle Marche del Corriere Adriatico per questo titolo che è curioso, nel senso che non è la prima volta che accade, però questo dà un po' il senso delle cose, di far capire meglio di un po' come vanno le cose anche all'interno delle carceri. Un giovane patteggia la pena e chiede di restare in cella. Aveva rapinato una farmacia, il colpo è successo a Macerata, si tratta di un trentenne che però ha detto, io se esco di qui, se esco di galera, ho paura di tornare a drogarmi e dunque chiedo di restare in... Fatemi restare qui, ha detto. È un ecuadoriano trentunenne di cingoli che dal 28 settembre scorso è recluso a Monte Acuto ed è lì che ha chiesto di restare. Ieri mattina tramite l'avvocato Giulianelli, che lo ha difeso, e ha patteggiato con il pubblico ministero la pena di tre anni di reclusione e 800 euro di multa. C'è spazio per lo sport prima di salutarci. Abbiamo detto, ieri c'era il turno infrasettimanale, poca vis e notte a Bolzano. La Sud, Bolzano che vince, il Sutterò che vince 2-0 sui Pesaresi, segna in apertura in due tempi e spreca altre chance per arrotondare il risultato. Nessuna occasione degna di tal nome per la squadra di Pamanna, ieri falcidiata anche dalle assenze. Per quanto riguarda invece il Fano, l'Alma e Juventus Fano, una samba ancora deludente. Il Fano ha sfiorato l'exploit. Volpicelli pareggia il derby in extremis dopo che Baldini aveva portato in vantaggio i Granate. Il risultato 1-1. Le pagelle di Massimo e Volpicelli tengono in piedi una squadra in tono minore, mentre sul fronte fanese Amadio e Baldini una spanna sopra, ma bene anche Gatti e di Sabatino. E con queste pagelle chiudiamo qui la nostra rassegna stampa del mattino. Come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a questa sera alle 20.30 quando ci sarà il telegiornale Occhio alla Notizia. Vi ricordo anche che questo numero è il numero di telefono da segnare e memorizzare nel vostro cellulare sotto la voce Fano TV per l'invio delle vostre segnalazioni. Grazie e ancora buona giornata a tutti. Grazie a tutti.